L'artista trapanese propone ai visitatori una personale di pittura contemporanea sul tema Apici ed Abissi. I lavori sono inseriti nel contesto nazionale della 14esima giornata dell'arte contemporanea della Maci. Sarà possibile fino al 9 di dicembre visionare la mostra su appuntamento prenotando una visita al 347 95 72 623. Vi aspettiamo fino alle 18 in Fardella 301 all'Agenzia Pubblicità per la mia mostra personale di pittura contemporanea Apici e Abissi che aderisce alla 14esima giornata a Maci per l'arte contemporanea.